Perfetto a questi bravi musicisti, oggi abbiamo chiesto in prestito un pazzo per voi e questa sera abbiamo a Luca Federici alla batteria, abbiamo direttamente dalla Colombia a Fernando, al basso Alessandro Terzo, a la guitarra a Dario Greiner, mi le dico un forte applauso. Alessandro Terzo, a la guitarra a Dario Greiner, mi le dico un pazzo per voi, a Dario Greiner, mi le dico un pazzo per voi, a Dario Greiner, mi le dico un pazzo per voi, a Dario Greiner, mi le dico un pazzo per voi, a Dario Greiner, mi le dico un pazzo per voi, a Dario Greiner, mi le dico un pazzo per voi, a Dario Greiner, mi le dico un pazzo per voi, a Dario Greiner, mi le dico un pazzo per voi, a Dario Greiner, mi le dico un pazzo per voi, a Dario Greiner, mi le dico un pazzo per voi, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.